Con queste scarpe ci correremo nei prossimi giorni, avremo la nuova GoPro e quindi sicuramente sarò in grado di filmarti al meglio. Non so se sono in grado di starti dietro, però grazie davvero. È il bello che stai dicendo che hai comprato la GoPro nuova quando tua moglie se n'è andata, così non lo sente. Oggi Andrea non sono riuscito ad aspettarti al cancello, però sappi che nei prossimi minuti dovrai aprire una scatola e qui vale sempre la solita regola. Non ti posso dire, anche se in realtà ormai le scatole le vedi passare a destra e a manca, non ti posso dire di che marchio stiamo parlando, non ti posso dire di che scarpa stiamo parlando. Tu mi devi dire quanto pesano, che scarpe sono e soprattutto quali sono le caratteristiche principali. Ti lancio il pacco come al solito. Se mi tiri il pacco non è una bella cosa, lo sai, no? Ti tiro il pacco perché comunque giustamente non riusciamo ad incontrarci molto frequentemente e oggi non siamo infatti andati alla pista di Garbaniata, anche perché stamattina proprio pioveva alla grande. Solo qui e da noi non ha versato neanche una lacrima il cielo. Ok, vai che ti mando, vai che ti mando. Wow, minchia, me l'hai lanciato malissimo. Ma te lo lancio sempre malissimo perché sembra che siamo di fronte, ma per rispettare il distanziamento siamo lontanissimi. Mi devi passare il mio coltellino. Chiavi? Chiavi. Aia. No, questo l'ho lanciato bene. Sì, no, ma mi è arrivato sul dito. Faccio partire il cronometro? No, 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 aspetta. Vai. Vai. No, no. Presa. Però adesso ho migliorato questa roba qua di pacchia. Stai miglioratissimo in effetti. Non so, siamo arrivati al ventesimo unboxing. Solo? Solo? No, poi metto quanti ne abbiamo aperti. Ah, ho parlato troppo presto, Max. Niente, ho parlato troppo presto. Peccato. Sì, beh, comunque aprire con le chiavi è davvero illegale. È illegale ma fa parte del gioco, no? Perché se la montagna non vado a mometto. Sicuramente questa è una... Uh, scarpa da trail. È una scarpa da trail. Beh, ovviamente non potevi non indovinarlo. Il problema è che io ho indovinato le scarpe da trail, sa che non sono un grande trailer. Beh, adesso con la pioggia che c'è stata malpensa nei giorni scorsi, a me sarebbe servita sicuramente. Beh, allora, caro armato importante, eh. Allora, guarda, i nomi delle scarpe da trail. Oddio, qua dietro c'è qualcosa di durissimo. Le scarpe da trail non le conosco. Conosco la Pegasus, ma che non l'avevo neanche mai presa in mano. C'è la Peregrine. Io ho un paio di Salomon Speedcross, non mi sembra nessuna di quelle. Direi una bugia in qualsiasi caso. Vabbè, allora guardale, no? Posso guardarle. Wow. Il colore è buono, eh. Wow. Vabbè, fighe sono fighe. Beh, questa è la mia, però. Cioè, la tua sarà di colore nero. Cioè, non pensare. Guarda, posso dirti le mie due robe? Fammi vedere, intanto, se la mia o la tua? Questa è la tua, porca Eva. No, ho chiesto di avere due colori diversi. La tua è sicuramente più bella. No, no, Max, no. No, non è vero. Non era vero. Non era vero, per fortuna. È un colore clamoroso questo. Se me l'avessi preso a nera, davvero, avrei detto che le topo erano le peggiori scarpe della terra. Ti dimettevi dal canale. Ma, no, adesso, a parte gli scherzi, ma che spettacolo di scarpa han fatto? Mi fa volare sta scarpa. Non ho capito qua dietro che diavolo servono sti due cosini qua, ma dopo le andiamo a vedere nelle specifiche. Ma direi, innanzitutto, provatele per capire un po'. Ma proprio per quello avevo preso il mio numero. La scarpa è simpatica, perché è la topo con l'avampiede bello largo. Guarda, ti dico subito che mi sembra una scarpa abbastanza pesante, quindi da tre lunghi, non da scampagnate di dieci chilometri. Ma quanto pesa, secondo te? 320, secondo me. Poi metto, non ne ho proprio la più pare di idea, non guarda neanche le specifiche. Ma il mio modello è sempre, sempre topo. Comodissima, ma è una figata anche al piede. In quali condizioni, Andrea, utilizzeresti un paio di scarpe da trail per noi podistiamatori? Allora, guarda, io le ho usate spesso quando andavo a passeggiare in montagna, diventano super, perché non cadi praticamente mai. Soprattutto sulla neve e sul ghiaccio. E quello lì era il mio principale utilizzo. Assolutamente, in allenamento bisogna valutare bene. Bisogna più che altro valutare dove state correndo. Se correte anche il 30-40% della vostra corsa su asfalto, non usatele, perché se no mangiate via tutta la suola. Il battistrada. Le utilizzerei per dire, giornate davvero, dove ha piovuto tantissimo tempo, nei parchi dove sappiamo di trovare tanto fango oppure abbiamo delle salite o delle parti tecniche. Per il resto andrei sempre con una scarpa normale per fare i lenti, assolutamente no per i lavori, perché sono comunque scarpe pesanti. Quindi o faccio un allenamento tecnico per il trailer o se no non le dovrei usare. E invece magari al parco, come in questo periodo autunnale, piove, le consigli comunque? Te l'ho detto, più che parco, cioè parco su pista bianca non le utilizzerei, perché alla fine corri sempre su pista bianca che te le rovina abbastanza e ti mangia via la suola. Se invece devo correre nei parchi, tipo nel mio parco Grohane, che c'è molto fango, magari piove tanto ed è un terreno molto scivoloso, sbrucciolevole, secondo me possono aiutarmi. Soprattutto secondo me quando piove tanto le posso utilizzare così se il giorno dopo smette di piovere uso una scarpa normale per fare i lenti, asciutta. A livello di calzata e misurazione cosa ne pensi? Stessa tipologia, stessa calzata topo oppure qualcosa di diverso? No, allora stessa calzata topo e per di più devo dire che è davvero simpatica perché comunque è un carroarmatone ma da sopra è simpatica e anche quando la metti al piede è bella da vedere. È comoda, quindi sì stesso numero. Ti vuoi fare due corse oppure non ne vale la pena oggi? Io adesso ti corro nel giardino così te lo haro se vuoi. No dai va bene, magari provatele un secondo e poi dopo ci dici le tue due impressioni. Ehi, l'avevo già provata Max ma la riprovo, forse non si era visto oppure sulle calze quelle spugnose di Nike e devo dire che la scarpa entrava senza problemi. C'è sempre lo solito spazio in avampiede Ritornando al vecchio unboxing che abbiamo fatto delle altre scarpe, io per dire userei queste per andare in giro a camminare anche per le città d'arte piuttosto che le Timberland che abbiamo provato. Primo perché sono più zarre e secondo perché hanno comunque quella ciccia e quel battistrada che reputo comodo nelle grandi camminate. Va bene, grazie Andrea, dai ascolta facciamo così adesso andiamo a farci il lento con queste scarpe ci correremo nei prossimi giorni avremo la nuova GoPro e quindi sicuramente sarò in grado di filmarti al meglio non so se sono in grado di starti dietro però grazie davvero. E' bello che stai dicendo che ho comprato la GoPro nuova quando tua moglie se n'è andata così non lo sente. Ma mia moglie non ha problemi anche perché sono comunque azionista della GoPro quindi giusto per saperlo investo dove ritengo valga la pena. Di chi non sei azionista? Ma di tanto, di tante cose non sono azionista. Va bene, grazie Andrea ci vediamo alla prossima Stay Strong Ciao Ti stissi parietti dopo di tagli? Forse